Ho trovato una volta, mi sento come te, che è stata carissima, mi ha dato addirittura un bellissimo letto da dormire e far comandare, perché se lo succevo io, sono 300 gente esclusa che sono le campagne. Non ce l'ha raccolta giusto. Sono un po' di strano, come sempre, quando mangiamo, ma riposiamo l'anno in giù. Come stai Rosale? Una bella nottata è passata? A vomitare. Ma anche io sono andato. Pure 6 metri. E ora ci sono. Non sono. Allora, almeno sei una ridente cittadina. Sono tre un cinese. Oh, che bello. Allora. Ricordiamo che la stanza deve rotere l'anno. Eccola, va completamente asettica. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sceglie le urini. Ecco qua. Se le bevo delle urine. Sceglie le urini. 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 Sì. 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 ma hanno più professioni sarà scontente tutto bene? ok nel frattempo abbiamo cartellato la terza mosca è il nostro lodale acqua e zucchero ed è come nuovo appena arrivate le visite hanno detto che è tutto ok tutto a posto, lo dalle è vero allora come potete vedere là c'è una carta di una cicca ma la cicca dov'è? eccola lì dove è finita la nostra amica cicca attaccata al muro dell'ospedale dove c'è il lodale guarda e qui chi è che ci sta devastando la micchia? farò vedere? ma quanto ti passa? farò vedere quanto ti passa? ecco la nostra prima giornata all'angio questo è il riassunto della nostra prima giornata all'angio vi deve fare ancora tre grazie a tutti